ciao a tutti belle e brutti d'agosto questo Christian de Ares siamo tornati qui in questo magico mondo di One Piece sul mio cellulare praticamente siamo arrivati all'isola di Sheltown e direi di iniziare intanto ho fatto anche l'Extraized con il mio Rappel praticamente abbiamo trovato personaggi nuovi e l'abbiamo evoluto anche abbastanza direi di iniziare subito con questo con questa con questo episodio di mandare avanti ovviamente praticamente c'è anche il sugo come si chiama sugo fest quindi poi tentiamo anche la fortuna se riusciamo a trovare qualche leggendaria ma questo è un altro video ovviamente questo può faccio vedere santo l'isola e via dicendo intanto qua siamo andati avanti facciamo il primo livello vediamo un po che possiamo utilizzare come personaggio di supporto è un po tra i miei milioni di amici bene allora partiamo direi di finirlo in breve tempo visto che ormai li ho potenziati tutti come potete vedere li ho scassati di legnate siamo già al boss ragazzi signori ma soprattutto signore direi di partire a scassare questi qua perfetto ben abbiamo già finito il primo step di quanti step vabbè diamo un attimo primo primo step dell'isola l'abbiamo fatto vediamo di continuare avanti di andare avanti ben si parte perfetto primo già finito per il momento ci sta andando abbastanza bene abbastanza veloce la cosa è un po il terzo capitolo capitolo con la corona sanci con la corona bene partiamo subito passare di legnata praticamente non se la godano neanche ok abbiamo trovato pure quella simpatica canaia questo abbiamo trovato tutti che poi utilizzerò per espandere gli altri che sono più utili il boss vediamo che boss è il figlio di del personaggio che c'ho se ne sbaglio biondino questo è scassato è già più di là che di qua praticamente sanci non l'ho neanche utilizzato non sono riuscito utilizzato ma non credo che sia già terminata l'avventura ha per fatto tutto l'ho ricevuto un'altra gemma perfetto abbiamo pure il comandante della marina tra i treni tra le nostre fila spesso riuscirò a usarlo praticamente potrete utilizzare già il primo step perché ma che possiamo scegliere quale usare io in genere parto da basso per andare verso l'alto però in tempo di uso è così semplice alla fine che quello in alto non li uso mai i poverini si offendono ma già terminato era il boss vabbè meglio ne ho trovato tre carte ovviamente inutili tutti i simpatici discorsi che evitiamo ma siamo già arrivati a 10 minuti di registrazione come vuole il tempo quando ti diverti non è già fatti fuori perché di partire direttamente qui dall'alto questo punto ah ha resistito questo e noi passiamo al bosso ecco quindi attenzione sono già al boss già finito anche questo è molto contenta ha recuperato le spade di zoro anche lei molto contenta lo siamo anche noi che potremmo perfetto ma partiamo subito passare di legnata ok il primo step è andato via i boss sono già il boss è già fatto via ne abbiamo già scassato ok è già fatto fuori ok è già eliminato ok è già eliminato poi sto facendo una squadra di donne chiamata airbag poi capirete per quale motivo e vediamo se utilizzeremo in qualche isola intanto le potenze poi sono ho fatto già il primo step di cinque abbiamo fatto anche il secondo step di cinque poi c'è il boss ah è una tartaroghina non ritrovarla perfetto no non l'abbiamo trovata quarto step di cinque poi c'è il boss ok c'è anche ok c'è tornati con il video con la registrazione andiamo a 9 mi siete persi un pezzettino perché mi si era riempita la spazio di memoria quindi facciamo un po' veloce ora siamo subito questo personaggio schifchiamo velocemente perché sennò qua il tempo esaurisce perfetto già il primo step di cinque l'abbiamo fatto e anche questa andata aspetta come avete esistito questo granzetto perfetto perfetto arrivati al boss lo schifchiamo che è lui grande il mio invece piccolo vabbè mi è scassato non so neanche riuscito ad arrivare all'altro beh teoricamente dovrebbe aver finito l'ho incontrato quello là teoricamente la matematico non è un'opinione è arrivata a 10 gem perfetto abbiamo trovato zoro terminata l'isola abbiamo trovato lo special guest super raro zoro il mio nome è gana e il mio nome è il mio nome è il mio nome il mio nome è il mio nome il mio nome è il mio nome e niente direi che abbiamo terminato direi salutarci qui se il video vi è piaciuto un bel pollicione niente chiaramente farò poi un altro video dedicato all'evento del sugo fest aprirò qualche pacchetto vediamo un po' se riusciamo indichiamo pacchetti poi vi faccio spiegare bene come potrei chiamarli e vediamo un attimo cosa riusciremo a trovare se troviamo qualche carta ultra rara come magari i personaggi famosi quindi nulla un saluto a tutti da un saluto a tutti i belli e brutti dal vostro Christian de Harris e da Mirko che è qui sul divano quindi grazie ancora per la visione ciao